Il fratello Dino lavora nel mondo discografico, in quanto responsabile dell'ufficio vendite della casa discografica vedette, dopo aver lavorato come turnista in varie sale di incisione, ed aver inciso 345 giri per etichette minori. Io e te, in vestaglia, namurato 767778. Ed avere scritto, arrangiato e curato, nel 1978 i due singoli del gruppo Enter o Clisma. Nino Buonocore nel 1979 firma un contratto per la RCA italiana. Il debutto avviene proprio in quell'anno. Con il 45 giri Amico Coccodrillo, 2X2. Nel 1980, incide il Q di Iscacida, in cui era contenuta la canzone Se, sigla della fortunata serie di telefilm L'Uomo da 6 milioni di dollari. Nel 1982, viene pubblicato il primo vero 33 giri. Intitolato Iaia, prodotto da Simon Boswell e suonato con la bandwave inglese Livewear, con cui partecipa nella sezione Disco Verde. Al Festival Bar, nel 1983, è per la prima volta a Sanremo. Con il brano Nuovo Amore. Che riceve amplissimi consensi di critica. Renzo Arbore, durante la diretta della prima serata. Seduto in prima fila, ne parla come il miglior giovane in gara. Alla fine del 1985, il brano verrà pubblicato nei paesi dell'America Latina. Vendendo oltre 3 milioni di copie. Alla fine dell'estate esce il fortunato singolo Note Chiara. Sigla della telenovela Cara a Cara ed il 33 giri Nino in copertina. Ed entrambi fanno la loro presenza in classifica. Nel 1984 Nino firma per 10 anni con la EMI. E dalla fine di quell'anno esce il 33 giri Nino Buonocore. Seguito, pochi mesi dopo, dal singolo Soli, sigla di chiusura di Domenica in. Partecipa al Festival Bar 85 con Io mi inventerò. Nel 1987, la vera svolta verso un tipo di musica molto più raffinata e meno rock. È l'anno di Rosanna. Presentata a Sanremo e, ad oggi, una delle sue maggiori hit. Durante l'estate partecipa al Festival di Saint Vincent e dal Festival Bar. Con il nuovo singolo Se io fossi in te. Dove inizia il sodalizio artistico. Per la scrittura delle canzoni. Con il paroliere Michele De Vitis. Nel 1988 è di nuovo a Sanremo con il brano Le tue chiavi no no. Cui segue un importante 33 giri. Una città tra le mani. Ove nei ricchissimi crediti dei musicisti che vi hanno preso parte. Figura anche il grande jazzista Kate Baker. Di rilievo la partecipazione al programma musicale Doc. Con Kate Baker, Nicola Stilo, Rino Zurzolo, Massimo Volpe, Pepe Sannino ed altri prestigiosi musicisti. Durante l'estate partecipa al Festival Bar con il brano Con l'acqua alla gola. Stampato anche in versione remix. Il 1990 è l'anno di buono core. Vengono pubblicati contemporaneamente il 33 giri sabato, domenica e lunedì ed il singolo Scrivimi. Entrambi nella top ten delle classifiche per mesi. Totalizzeranno oltre 200.000 copie vendute l'album e, ad oggi, con pubblicazione in diverse versioni e lingue e paesi. Oltre 3 milioni di copie per Scrivimi. Inserita anche nella colonna sonora del film di Castellito Non ti muovere. Buono core si classifica terzo tra gli italiani al Festival Bar e secondo al Cantagiro. Nel 2006, Laura Pausini inserisce il brano Scrivimi nell'album Io canto e mango nel disco L'amore. Invisibile. 2014. Nel 1992, viene pubblicato l'album La naturale incertezza del vivere. Da cui vengono estratti i singoli Il Mandorlo e Non Dire. L'album resta 20 settimane in classifica. Partecipazione al Festival Bar e Vota la Voce. All'inizio del 1993, come ultimo impegno contrattuale con la EMI, Nino partecipa a Sanremo con il brano Una canzone d'amore. Cui segue la raccolta del periodo con la EMI. Un po' di più, che contiene anche tre inediti. Per un improvviso raffreddore e conseguente abbassamento della voce è costretto a riarrangiare il pezzo, anni di riflessione e silenzio. Per poi tornare alla fine del 1998. Con un album di passaggio. Inciso per la E.A.S.Y. di Claudio Mattone ed intitolato Alti End Bassi. Da cui vengono estratti i singoli nemmeno un momento e prima o poi. All'inizio del 2001, Nino intraprende un delicato e raffinato cammino di ulteriore avvicinamento al jazz, mettendo su un sestetto di grande qualità e pubblicando del 2004 il CD Libero Passeggero. Cui è legato un DVD in viaggio. In cui lo stesso Nino ed i musicisti del sestetto. Spiegano il senso, le origini e gli sviluppi del progetto. Da segnalare anche un raro ed inedito video di Nino del 1988. In una session di presentazione alla stampa dell'album Una città tra le mani. Con una favolosa band e con Kate Baker ed immagini inedite girate a New York. Ai Green Street Studios. Durante le registrazioni di sabato, domenica e lunedì. A questo album seguono tre tournee. 2004, 2005 e 2006. Nei teatri italiani ed in quegli spazi dove è possibile creare raffinate atmosfere. Durante il 2007, è proseguito il lavoro nei suoi Groves Studios di Napoli. Alla realizzazione del nuovo album. Concedendosi nel contempo dal vivo in importanti location come il Musicultura Festival di Macerata. Tra i tanti artisti presenti c'era Franco Battiato. O il The Place di Roma e partecipando alla registrazione dello spettacolo di Alessandro Siani. Tienimi presente suonando e cantando la sua canzone Scrivimi. Durante il 2008 Nino è al lavoro sul seguito naturale di Libero Passeggero. Intitolato nei progetti Greatest Studium Plugged. Contenente le altre itere interpretate e riarrangiate in chiave jazz con l'Ir Sestetto. In estate è in tour di rito. Prosegue il lavoro sulle nuove canzoni per il nuovo disco di Inediti. Il 2009 è iniziato con il grande concerto evento al Teatro delle Palme a Napoli. Dove sono stati eseguiti anche alcuni inediti che saranno contenuti nel disco nuovo. A cui Nino sta lavorando. Nel frattempo la Azzurra Music ha pubblicato con il titolo di Scrivimi. La raccolta in studio con il Sestetto. Delle altre ite non contenute in Libero Passeggero. Il 4 giugno 2013, anticipato negli Stores Online il 27 maggio 2013. Viene pubblicato dalla Hydra Music il nuovo album Segnali di umana presenza. A settembre 2013, Nessuno, scritta da Buonocore De Vitis e arrangiata dallo stesso Nino. È il singolo di lancio dell'album Nella Casa di Pepe. Inciso da Serena Rossi, già protagonista della SOP Un Posto al Sole. Il 20 maggio 2015, viene pubblicato il nuovo album di Enzo Gragnaniello. Intitolato, Misteriosamente, che contiene un duetto con Nino. Quale futuro vuoi? La vitezione è un'immcrano.